Siamo con Mr. Soncini del Ventimiglia a calcio, ventimigliese, una partita girata al secondo tempo molto velocemente. Sì, no no no, dispiace perché noi abbiamo fatto una prestazione che è quello che avevo chiesto, dovevamo dire chi eravamo come squadra, dunque abbiamo dimostrato che valiamo la Cairese, valiamo quelle che sono lassù come gruppo, come qualità di gioco, come competitività. Mi spiace gli episodi perché su due errori nostri, magari un po' di mancanza di esperienza, abbiamo preso due gol che bruciano, prenderli negli ultimi dieci minuti di partita, brucia dal punto di vista del morale, però dobbiamo ripartire bene perché la prestazione è stata di buon livello, dunque proviamo a andare domenica a riprendersi i punti di oggi, quello sicuramente, ho detto questo ai ragazzi già da domani sera, mi spiace perché brucia, così brucia. Grazie. Prego.